Quando sono andata a trovare mio figlio che ormai vive da solo e ho visto che aveva le lenzuola spaiate ho capito l'entità del problema. Infatti negli armadi poi alla fine tutto si mischia ed è un pasticcio. Quindi, organizzazione. Ho pensato che per risolvere il problema basta infilare tutte le lenzuola nella federa di competenza. Così poi quando uno tira fuori dall'armadio, tira fuori tutto insieme. Il pacchetto fatto e anche l'armadio poi è più bello e ordinato. E mi piace molto questa cosa. Certo poi bisogna vedere se Francesco perderà del tempo a mettere tutto nella federa però io penso di sì. Così al momento del cambio delle lenzuola un secondo. Si tira fuori e tutto il kit è pronto. Questa la dovrei anche cucinare magari. Ecco come fare un armadio ordinato. L'armadio della biancheria.